Ciao a tutti i concittadini di Casa Luce. Un saluto affettoso in un momento difficile in cui siamo costretti tutti a stare a casa. Vedete che però in questo momento si rivalutano anche le cose importanti, gli affetti sinceri, una bella lettura, una condivisione con i propri figli o con i propri cari e si può rimeditare anche sulle tante volte, le tante cose che ci siamo detti quando ci siamo incontrati e cioè rispetto delle regole. Vedete quanto è importante anche in questo momento. Ci sono delle regole che ci impongono di stare a casa per la salute di tutti, le dobbiamo rispettare nella speranza, anche nella sicurezza, nella convinzione che tra un po' si supererebbero in questo momento difficile. Così potremmo rincontrarci di nuovo dal vivo e riprendere un po' la nostra vita. Rimetitiamo anche sul sistema dei valori. In questo momento stanno uscendo quelle che sono le persone importanti che dobbiamo poi valorizzare, stimare e apprezzare anche in questi momenti complicati, tanti medici, infermieri, gli agenti della polizia e dei carabinieri, magistrati che tanto lavorano anche in questo periodo. Io da un clima familiare, quindi da casa, sono in borghese, oggi vi saluto e vi rinnovo l'invito a rimanere nelle vostre abitazioni. Un abbraccio.